Quanto hai speso per il bunker? In verità dove c'avevo un altro. Allora, quanto ho speso per il bunker? Circa 350 euro al televisore, 250 al divano, le assi di legno gialle sopra per fare il tetto, tuttana quanti soldi ho spostato. Bro, perché tu vai al brico. Perché? E dove cazzo vado? Ti do io il contatto per fare le cose. Sì, ma il tuo contatto che mi dai? Io vado là, compro, vengo via, o devo chiamare, far la fila, forco zio, o va che arrivo. No, no, compri, vai là, però zio. No, perché al brico invece, sai, mi fanno, mi segnano col bigliettino. Dai, paghi domani. No, no. C'hai capito? Pagano SRL, zio. Ah, no, ah, no, quello no. No, no, vai, no, no, niente, vai, va. Ah, soldi in mano, no a segno. No, zio, in mio culo. Soprano a bento. Dai. Sei bravo, ti sto fumando. Bravi. Come si chiama quel cartone animato? Che ride tipo straveloce. Vabbè, dai, dai, quanto cazzo hai speso per i bunker, fratello? La botola di merda che c'è grossa sopra. Sì. Solo quella lì costa 100 euro. 100 euro? Minchia, sai che stanno rubbier gratis? Ma tu, questa zona di spaccio vedo che è allargata anche ad altri materiali. Vabbè, finché ora deve durare la pagliacciata, scusa. No, Edo, tu, tu devi che ti la menti, perché tu prima le hai mandato a puttare nella live. No. È colpa tua che adesso lui è diventato come te. Queste pizza le paga le SRL? Io non ho un SRL, sono loro quelli che fatturano tanto. Io sono più... Eh, bro. Lai down. Se non fai i video che dico io non esplodi e non devi aprire le SRL, giro. Tu rimarrai nel fofettare se continui a fare i video ai 18 minuti dove spieghi come si costruiscono le cose. È solo spoiler o cosa hai fatto, hai capito? Se non la smetti. Dai, dai, allora, prendiamo in mano questa situazione. Vieni un po' più in qua, per favore, che se no non ti si vede. No, no, tranquillo, tanto... Ma perché non mettete una cazzo di tv così riuscite a leggere? C'ha ragione. È vero. Metti due cazzo di tv giganti. Io ce l'ho nel bunker per la porta. Però te l'hanno regalato il generatore, cioè il generatore e la batteria gigante. Sì, è vero. Però io non posso parlare dei brand. Bro, l'hai detto te nel video di Luca. Gli scacciati? Gli scacciati? No, infatti sto scherzando, mi hanno regalato. Ah, ok, ok, ok. Non mi hanno pagato. Ma è una batteria? Eh? Una batteria? È un power bank quello lì. Ma quanto ci mette a caricarsi quella roba? No, in realtà c'è il fast charging. Eh, quanto ci mette? Anzi, scusami. Fast charging. C'è il fast charging ASMR. Quanto ci mette? Non lo so, da quando me l'hanno mandata l'ho mai caricata. Ah, davvero? Fì, che continua ad andare. Sì, anche perché il bunker non penso che tu l'abbia usato, che ci sei stato detto veramente. Quella di la partita, no? Non ci hai scopato nel bunker? Sono scappato nel bunker? No, dai, sincero. No. Non ci hai scopato. Ma che cazzo tu hai? Scusami. Non hai bisogno del bagno. Valle a che si fa le sega a mandare le foto su. Non hai bisogno del bagno. Oh, chi si è fatto? L'hai fatto la scoperta nel bunker? Raga, io c'ho 33 anni, cioè, attenzione, le cose, dopo vi passa tutta sta roba qua. Cioè, lei non vi passa, nel senso, diventa più evoluta. Cioè, lei non vi passa, nel senso, diventa più evoluta.